Fano avrà un ospedale Santa Croce che sarà un vero ospedale, non una struttura depotenziata e svuotata come era nel progetto del 2012 della Regione Marche. Si sta provvedendo in queste ore da parte dello staff del Sindaco alla stesura di un protocollo d'intesa definitivo con la Regione Marche. Ma non solo, il Sindaco Seri, dopo il mandato ricevuto dalla maggioranza del Consiglio Comunale, sta concordando con Palazzo Raffaello, un documento in cui siano presenti alcuni punti cardine richiesti a gran voce da molte forze politiche e per i quali si sono avviati una fitta serie di contatti tra il Sindaco, il Presidente della Regione Ceriscioli ed il suo collega pesarese Ricci. Oltre al Santa Croce Fano riceverà infrastrutture, una sanità privata che non sia alternativa ma integrativa e di qualità ed una RSA che manca da sempre a Fano. E oggi penso di riuscire a portare a casa dei risultati importanti per questa città e l'elemento storico fondamentale è quello di mantenere il Santa Croce come presidio ospedaliero anche dopo aperto e pieno con ad esempio la chirurgia d'emergenza che oggi ad esempio non c'è e ci sarà ma non solo questo anche la presenza di una struttura convenzionata quindi un nuovo ospedale nella città di Fano e poi tutta una serie di presenze di lungodegenza come il tema dell'RSA che a Fano non ha neanche un posto e la richiesta di collegamenti infrastrutturali che colleghino la città di Fano e di Pesaro ma anche i presidi ospedalieri. Tutto questo in un accordo con un protocollo da siglare con la regione Marche perché altrimenti rimangono parole al vento e non si concretizzano. Questo è l'obiettivo su cui sto lavorando e sto perfezionando un testo di un protocollo da condividere con la regione Marche.